La CGL ha proposto questo incontro oggi con la presenza delle maggiori istituzioni e delle associazioni della provincia d'Imperia per ragionare di come è possibile promuovere ancora questo territorio, mettendone in risalto i valori, le qualità e ciò che di buono produce, per fare in modo che si possa connettere la produzione delle cose buone che abbiamo con la promozione del territorio. Crediamo che questa sia una ricetta per cambiare in maniera strutturale la promozione del territorio e la percezione che gli altri hanno di noi e che possa garantire un futuro ai lavoratori di questa provincia, alle aziende e alla promozione del territorio stesso. Nell'incontro di oggi noi vogliamo discutere del futuro di Imperia, tutta la Liguria è in affanno e in difficoltà ma Imperia è la cenerentola delle province Liguri, serve un progetto, serve un'idea di sviluppo che consenta di tornare a crescere e creare occupazione soprattutto per le nuove generazioni. In una provincia come quella di Imperia il turismo può e deve essere il volano di sviluppo ma questa cosa è possibile solo e soltanto se si rafforza il rapporto con il territorio, se il turismo diventa l'occasione per promuovere i prodotti locali, le produzioni locali e così facendo è anche il volano con cui si riesce a far crescere gli altri settori produttivi. Dopo Agnesi abbiamo scoperto che esistono anche altre industrie nella provincia di Imperia, sono industrie nel settore alimentare, concentrate in quei comuni della Statale 28, noi pensiamo che anche ad Imperia si possa fare industria e la si possa fare in modo strettamente collegato con la promozione del turismo. Imperia ha tre punti forti che deve saper valorizzare e sfruttare, una capacità di produzione, di qualità e di diffusione dei prodotti agroalimentari. L'industria agroalimentare ha tenuto meglio negli anni della crisi anche in termini occupazionali e può essere un forbidabile supporto a uno sviluppo del turismo di qualità per tutto l'anno che diventi davvero un vettore di sviluppo territoriale slegato da fattori esclusivamente contingenti. I fondi europei, il riconoscimento recente dell'area di crisi non complessa e le risorse che arriveranno dai bandi europei in uscita ai primi di dicembre possono essere le condizioni per investire nella provincia, ma soprattutto per avere un progetto di sviluppo territoriale che non mortifichi un settore rispetto a un altro. L'Imperia può e deve essere conosciuta non solo all'interno della nostra nazione ma in tutto il mondo per gli straordinari prodotti, per la bellezza del territorio e per un clima meraviglioso che i turisti apprezzano da secoli.